Due anni fa a Milano i minori stranieri non accompagnati erano meno di mille, oggi sono più di 1300 con 400 posti garantiti dallo Stato. Il Comune non riesce a farcela da solo e per questo il Sindaco Sala ha annunciato di aver discusso con il Ministro dell'Interno Piantedosi dell'ipotesi di aprire un centro di accoglienza dedicato. Se noi mettiamo questi ragazzi nelle nostre strutture e rischiano di essere con adulti che fanno un certo tipo di vita solitaria da tanti anni, non possono trarre un esempio positivo, mentre sono ragazzi che possono essere ancora ampiamente recuperati. In attesa di una risposta ufficiale il Governo ha stanziato per Milano 6 milioni e 600 mila euro in tre anni per l'accoglienza e la sicurezza, ha spiegato il Sindaco aprendo il forum comunale del Welfare. Risorse che potrebbero servire intanto a reclutare personale stabile. Si aggiungono 3 milioni di euro di Fondazione Cariplo e Fondazione Coni Bambini. L'obiettivo è uscire dalla logica dell'emergenza e affrontare i bisogni dei minori stranieri non accompagnati avendo a cuore la qualità dei loro percorsi e l'inserimento. E di questi tempi investire nell'educazione e nell'integrazione potrebbe aiutare anche la giustizia minorile. Abbiamo più che raddoppio di minori che vengono scoperti, invisibili, la coesistenza viene scoperta nel momento dell'arresto. Secondo i dati del Comune il 97% dei minori non accompagnati a Milano sono maschi fra i 16 e i 18 anni. Secondo i dati del Comune il 97% dei minori non accompagnati avendo a cuore la qualità dei minori non accompagnati avendo a cuore la qualità dei minori. E quindi